Il venerdì 3 maggio, l'uomo cercherà di superare il suo limite, quello di esporsi nuovamente. Ogni qualvolta Ruggero si espone e per lui vincere una grande emozione che ha sempre legato, imbavagliato. Io parlo a tutti i timidi, se per caso voi in un minuto volete vincere la dividenza, guardate lui, lui ce la fa senza paura di essere giudicato. Ruggero dei timidi, oltre ad essere un cantautore, è anche un esempio. Il 3 maggio questo esempio sarà reale per tutti. Ruggero dei timidi, a bisogno di voi. Devo dire che ho preso due gin lemon. Scusate.